L'amichevole con la Capriatese, travolta 6 a 0, termina con il primo vero abbraccio simbolico tra i tifosi e la squadra a dimostrazione di un'empatia che inizia a prendere forma. Campobasso in palla, in gol Giampaolo, doppietta per lui, Alessandro Dalmazzi, La Barba e Brenci. Indicazioni positive per mister Cudini che ha riproposto il 4-3-3 in campo pure l'ex Gaetano Poziello, sempre pericoloso. Nonostante l'età fuori dal campo, ieri si giocava un'altra partita, quella tra Mario Gesuè e Nicola Circelli. La convivenza è impossibile, lo strappolo dà il patron rosso-blu che annuncia che il nuovo presidente è Raffaele Mario De Francesco, presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Luigi Mandragora e Mario Gesuè, tutte persone riconducibili al proprietario del lupo. Ma ai Circelli non ci stai a caldo, alla stampa dichiara, si è forzato la mano, l'assemblea non è valida, ci sono penali pesantissime. L'ex presidente stamattina è tornato alla carica su Facebook, rilancia tranquilli, scrive ancora poco e tutto sarà chiaro. La chiosa citando Rita Levi Montalcini, la testa c'è chi la bassa, chi la nasconde e chi la perde, io preferisco chi la usa. Dunque nessuna reazione scomposta e sullo sfondo una guerra fatta di carte bollate. Infine, anzi, di nuovo i tifosi con i risultati della prima giornata della campagna abbonamenti. Tanti supporter che hanno sottoscritto la tessera presso il Campobasso Store, in corso Vittorio Emanuele. Come ormai da anni, gli abbonamenti numero uno e numero due sono stati acquistati già dalle prime ore del mattino dai fratelli Renzo e Teodoro Marano, ringraziati pubblicamente dalla società. L'affetto che il popolo rosso-blu ci sta riservando in queste prime settimane è incredibile. Le parole del patron Mario Gesuè, questa scia di entusiasmo, ci fa sentire ancora più responsabili verso i tifosi e verso la città di Campobasso.